Ciao a tutti ragazzi sono Kendall o Candy o... facciamo così, chiamatemi direttamente il migliore youtuber del mondo e benvenuti in questo nuovissimo video di reazioni ai segreti di Minecraft lo so, non carico da un bel po' di tempo, sono passate lì in circa due mesi, penso sì, perché ho smesso di caricare nel 2020, quindi buon anno mi raccomando ragazzi vi invito a lasciare un mi piace immediatamente a questo video perché oggi vedremo delle figate assurde su Minecraft e guarderemo appunto il Reddit di Minecraft ho messo il filtro top, ho messo il filtro quest'anno perché mi sono perso tutto il 2021 e vediamo che cosa ha fatto la gente allora, non ho letto neanche la descrizione, quindi non ho idea di che cosa aspettarmi però io conosco i pazzi che sono su Reddit e fanno delle cose assurde ecco appunto, tipo questo cos'è, un cannone che sta creando? e soprattutto come? ma che cavolo sta succedendo ragazzi? oh mio dico, ma com'è possibile? come si fa ragazzi? dai, io non ci credo, non l'ha fatto di certo con la redstone saranno tipo i command block che figata ma che figata, guarda cioè, ha già fatto no, ma cos'è? vuoi anche un bicchiere di aranciata? uno champagne, già che ci sei? guarda, ti ci puoi anche sedere rendiamoci conto ragazzi c'è gente che riesce a costruire queste cose e io non riesco a mettere due redstone una accanto all'altra per far aprire una porta ho modificato il main screen di Minecraft ok, abbiamo il logo nuovo della Mojang che è una figata poi il caricamento e vediamo cosa ha cambiato lui uuuuh ma che figata! ma perché non lo aggiungono? no, dai, scusate cioè, vi ha servito il lavoro è pronto fatelo è bellissimo ho creato una TNT che ti scava dei tunnel automaticamente beh, noi abbiamo già visto delle TNT del genere ma sapete cosa? credo sia la stessa TNT che vi ho fatto vedere nel mio primo canale qualche giorno fa no, ok è diversa perché qua ci ha messo anche un pistone aggiungi della TNT extra vediamo che succede mio Dio ma che figata quanto sono belle le TNT modificate ragazzi le mod ah, sta continuando? va avanti ho modificato le texture dei minerali e devo dire wow, che figata molto più belli molto, molto più belli ci starebbe visto che adesso deve uscire l'update delle caverne se modificassero qualche piccola texture giusto per renderlo un po' più realistico però forse non lo fanno perché non tutti hanno un buon computer e aggiungere una qualità così alta nei minerali che li trovi spesso nel mondo forse potrebbe far laggare un po' di più le persone ho creato una porta fluida una porta o un'apertura non lo so sinceramente non ho ancora visto il video vediamo oh, vedo già una bellissima entrata c'è un pulsante da cliccare e gli ha dato la chiave la chiave sarebbe una palla di neve oh mio Dio oh mio Dio che cosa che cos'è non è possibile c'è anche la combinazione aspetta ragazzi questa cosa forse si può fare veramente con i pistoni come? loco ti prego facciamolo nella Big Vanilla come? si può fare no, non si può fare non si può io non ci credo mai nella vita che questo qua ha fatto sta roba con la redstone e dov'è la redstone nascosta? scusa come ha fatto? se no, dai non è possibile no, no, no non ci credo non è possibile non l'ha fatta con la redstone l'avrà creata con qualche mod che figata qualche pazzo ha ricreato il Grand Canyon ho fatto in modo che il ghiaccio si rompa se ci salti sopra che figata ok, anche questa è una cosa che mi piacerebbe avere su Minecraft ah e da più in alto ci salti più si rompe? no, non ci credo non è possibile perché questi piccoli dettagli non esistono? wow non so per quale motivo mi sto gasando tantissimo con una cosa del genere però non lo so sono quei piccoli dettagli che secondo me aggiungerebbero un po' di eh? un po' di pepe al gioco una piramide al contrario che mi porta nel land ah bella idea ho creato un modo per giocare con gli Axel Hotley con i Command Block in che senso? qui lo dico e qui lo nego la gente ha troppo tempo libero un hyperlapse delle caverne dei nani oh mio Dio voglio vederle a tutti i costi queste cioè ragazzi in testa mia quando io faccio le costruzioni nella Big Vanilla io sto creando questo poi il risultato è totalmente diverso però in testa mia io sto creando robe del genere me le immagino così e poi escono vabbè tutt'altro mamma mia ma che figata ma che figata ma dite secondo voi dite che bella faccia Marci Buddy e Mark messi tutti insieme riuscirebbero a creare una roba del genere per me sì per me sì uno di questi giorni prova a schiavizzarli per farmi una costruzione del genere wow 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 mi si sta scaricando anche la batteria cavolo la super spugna di Minecraft vediamo sono curioso tutto qua ah oh mio Dio oh mio Dio ho creato una replica in scala 1 su 1 della formula 1 di Monza wow con le barche perché sembra che sta andando super veloce scusate cioè sembra che sta andando 300 all'ora quest'uomo ha ricreato un villaggio di Minecraft e l'ha tipo ricostruito tutto l'ha rimodernizzato ed è enorme adesso la mia piccola casa Hobbit su Minecraft oh mio Dio è casa mia è casa mia nella Big Vanilla ok di dentro è un pochettino più grande in effetti perché sì le case Hobbit tecnicamente sono piccole fuori però dentro si espandono incredibilmente la mia è piccola e basta fighissima molto molto bella più bella della mia devo essere onesto più bella della mia però non vedo neanche un elmetto in ferro il che mi fa pensare che questo tizio non sa giocare a Minecraft no nuova idea di design con i blocchi della 1.17 allora quella è una candela quello lì è una rod dell'end city poi la testa del drago wow ma è bellissimo non vedo l'ora che esca la 1.17 per ricreare esattamente questa costruzione beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace perché potrei tornare penso di essere tornato non lo so sono tornato? forse sono tornato inizierò a caricare più video anche su Candy? forse lasciate un mi piace ciao ciao ciao